macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria contenzioso il premio è quello di studio legale dell'anno contenzioso contratti pubblici la motivazione per aver ottenuto una sentenza storica a difesa della reale di bolzano per un'operazione di riqualificazione del valore di circa un miliardo di euro per la capacità degli avvocati claudio guccione e maria ferrante di condurre un deal di tale complessità innovazione e rilevanza economica destinato a fare giurisprudenza il premio va a p and i guccione collegato con me l'avvocato claudio guccione l'abbiamo sentito nominare naturalmente nella motivazione partner di piena e guccione associati avvocato ben trovato grazie per essere qui buongiorno grazie a te allora dopo arriviamo alla motivazione ovviamente che la vista già protagonista insieme alla collega prima le chiedo un commento a caldo su questo premio beh ci fa particolarmente piacere perché siamo molto focalizzati sul settore quindi il riconoscimento da un network importante come le fonti è sempre occasione di grande soddisfazione esatto poi in un momento come questo mi verrebbe ad aggiungere no assolutamente di ristrettezze però d'altra parte per fortuna insomma le attività legali vanno avanti di consulenza ma anche di contenzioso che è naturalmente inarrestabile e quindi essere riusciti a difendere un'operazione che fra l'altro avevamo strutturato come consulenti quindi noi nel 2015 vincemmo un beauty contest per conto dell'areale di bolzano spa e abbiamo configurato l'operazione in questo modo in maniera del tutto innovativa non utilizzando oltre la legge provinciale con una ordinaria operazione di riqualificazione urbana ma questa normativa nazionale in ambito altoatesino quindi molto particolare che coinvolge i mobili di ferrovie dello stato innanzitutto per riqualificare un'area di circa 50 etteri e mettere al centro proprio la governance calibrata e focalizzata sulla valorizzazione degli mobili quindi far crescere di valore gli immobili e non una semplice riqualificazione urbana funzionale a questa operazione naturalmente c'è una variante urbanistica ma è strumentale rispetto al vero focus che è l'innalzamento del valore degli immobili e quindi è un'operazione assolutamente innovativa applicare una legge nazionale in ambito di legge però diciamo di ambito provinciale dove c'è la propria normativa e aver scelto credendoci sin dall'inizio da consulenti appunto vincemmo beauty contest 2015 in un'operazione con norma mai applicata nel territorio nella motivazione infatti abbiamo sentito citare anche l'avvocato suo collega maria ferrante si parla proprio di della capacità di aver condotto un di tale complessità destinato a fare giurisprudenza lei ha già raccontato insomma che cosa significa questa questo importante progetto che avete avuto la capacità di guidare nel futuro che cosa potrebbe portare insomma così parliamo anche in generale di voi e dell'immediato futuro bene ripeto rispetto alle nostre ordinarie operazioni di partenari del pubblico privato questa non lo è questa è veramente un'operazione unica nel suo genere considerate che nel per quanto riguarda il pon quindi diciamo così le strumenti di finanziamento comunitario era stato previsto un l'ultimo pon territoriale nazionale di circa mezzo miliardo sparto per 14 metropolitane e questa operazione da sola cuba più del doppio del piano del pon nazionale su tutto il territorio perché particolare perché ripeto si è spostato il focus da riqualificazione urbanistica alla valorizzazione degli immobili quindi un'operazione certamente con 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 le sue complessità ma senz'altro replicabile in altre occasioni in cui lo scopo principale la valorizzazione immobili quindi direi che rispetto alle ordinarie operazioni e di riqualificazione territoriale e alle operazioni di partenariato pubblico privato project finance innanzitutto questa operazione che coniuga aspetti dell'una e dell'altra ma che di fatto poi alla fine si concreta in un unicum quindi certamente replicabile e quindi è importante anzi auguriamo che ci sia un effetto emulativo di un'operazione assolutamente assolutamente insomma questo è un po anche alla base di questi premi degli awards a dare dei riferimenti rispetto a operazioni che possono essere sicuramente lungimiranti e efficaci per tutto il nostro paese quindi assolutamente la parte emulativa insomma speriamo ci sia le chiedo l'ultima cosa insomma quindi come guardare avanti da adesso in poi come guardare avanti beh ci sono delle novità interessanti di stimolo nel nostro settore delle public utilities quindi servizi pubblici delle infrastrutture senz'altro il bonus del 110 per cento direi che una che ovviamente diciamo così sollecita le stazioni appaltanti ma anche gli operatori privati ad attivarsi per per arrivare a diciamo ad acquisire a fruire di questi incentivi un'altra novità importante a mio avviso molto importante nel 2020 nella nostra formativa è nell'ambito del codice dei contratti pubblici la modifica dell'articolo 183 comma 15 quindi le proposte di project financing ad iniziativa del privato adesso possono essere presentate alle stazioni appaltanti pubbliche anche a prescindere dal fatto che un'opera o un servizio pubblico sia già nella programmazione cioè sino a ieri il privato aveva una preclusione a presentare una proposta di ciò che l'amministrazione aveva già inserito nel suo programma perché a quel punto l'amministrazione andava avanti in via ordinaria pubblicando il bando invece adesso nonostante con la modifica del decreto 76 2000 semplificazioni nonostante ci sia già presente nel programma il servizio pubblico o l'opera pubblica che il privato intendeva proporre lo può fare senza alcuna preclusione il che vuol dire che soprattutto il project financing ad iniziativa di privata avrà un viatico diciamo di ulteriore quindi si implementerà in maniera geometrica il numero di operazioni attivate dai privati quindi questa è un'altra sicuramente novità normativa molto molto interessante certo allora io intanto le chiedo di portare i complimenti anche a maria ferrante naturalmente a tutto lo studio al team chiaramente e rinnovi complimenti anche a lei e la ringrazio per essere stato con noi avvocato claudio guccione partner di piena ai guccione associati e al prossimo riconoscimento insomma nel futuro speriamo grazie buon proseguimento buon proseguimento prezzo